Basta guardare il disegno di legge che qualche mese fa ha presentato Luigi Genovese per renderci conto di che cosa stiamo parlando. Bramanti vuole mettere la mano sulla città, ha tentato di farlo con la sanità, ha chiesto in cambio il papardo, questa situazione ovviamente l'abbiamo fatta scoppiare, ha un nome e cognome, Franco Antonio Genovese e Company, è ovvio che l'ennesima riprova da parte di queste lobby di bloccare la città e soprattutto continuare ad utilizzare come un bancomat, una nobile faccia, eccellente per carità, ma comunque parliamo sempre delle solite caste che hanno messo in ginocchio la città di Messina. L'argomento di oggi invece? Abbiamo fatto una disamina di quello che deve essere la punta di indiamante di questa amministrazione comunale, essendo il sindaco un ottimo professore di educazione fisica, ma come capita spesso quando si entra poi nei palazzi si si dimentica delle proprie origini e infatti dalla disamina emerge che abbiamo tutti gli impianti sportivi abbandonati al loro destino, nessun intervento concreto è stato fatto, alcuni affidamenti anche di questi impianti sono stati dati ai privati con questioni di dubbi e anche legittimità, abbiamo anche fatto una disamina di quello che comunque sono tutti gli spazi per il tempo libero, per l'attività ludico-rereative e tutti i famosi cartelloni che dovevano rappresentare le grandi manifestazioni che connotavano la vera Messina. Tutto questo ovviamente non esiste perché un euro da parte di questa amministrazione non è stato speso. Abbiamo detto sinteticamente che manca ormai l'agorà a Messina e per l'agorà si intende qualunque punto aggregativo, qualunque punto dove la comunità ovviamente si rispecchia e socializza, ma un agorà che noi abbiamo immaginato, diffusa in tutto il territorio, dove si parte da Bellaggi a quello che è il centro, che in questa fase è stata livellata verso il basso, perché di questo lo possiamo dire in conclusione. Questa amministrazione ha avuto la capacità di livellare verso il basso tutto il contesto. Grazie a tutti.